Si torna al lavoro nella fabbrica di Terontola della Cantarelli ma l'attenzione è ancora alta. Le persone, come ho già avuto modo di dire, sono piuttosto provate da questa situazione. Quindi sono in attesa, non vorrei dire spasmodica, ma sicuramente è il termine che la definisce nella maniera migliore. Mentre la storica azienda Sartoriale si sta preparando al prossimo Pitti, nel frattempo dovrebbe uscire il terzo bando di gara. Un bando operativo in vigore da subito con una scadenza in tempi brevi per l'acquisto dell'azienda. L'incontro a Roma ha prodotto l'agenda delle prossime due settimane entro le quali dovrebbe essere definita, noi speriamo tutti, un'assegnazione attraverso un invito da parte del commissario a precisare e migliorare le offerte già esistenti. Un successivo periodo di evidenza pubblica della preassegnazione stessa. E poi si dovrebbe cominciare la discussione sindacale in senso stretto, sempre che l'azienda sia aggiudicabile in relazione alle offerte che saranno pervenute. Il momento che stanno vivendo adesso i lavoratori sono al lavoro? Che cosa stanno facendo? Quanti sono al lavoro? I numeri sono sempre gli stessi. Ci sono una novantina di persone in cassa integrazione su un organico di circa 240 e il resto stanno lavorando per preparare le commesse. L'azienda parteciperà a Pitti Uomo a gennaio. Questo ha detto il commissario Romagnoli e al Ministero dello Sviluppo Economico. Questo che cosa significa per l'azienda? Per l'azienda significa continuare a esistere e come abbiamo sempre detto significa l'opportunità di vendere un'azienda accesa piuttosto che un'azienda che non è più attiva, che è ovviamente un vantaggio.